Una notte terribile, un incubo, quello vissuto da un quindicenne di Conegliano. Il ragazzino si trovava presso un centro di diagnosi, cura e riabilitazione dell'asma infantile ad Auronzo. Una sera terribile, alcuni minorenni, ospiti della struttura, secondo l'accusa avrebbero immobilizzato il quindicenne sul letto. Gli avrebbero legato mani e piedi con lo scotch da pacchi, poi infierito con un paletto di ferro del diametro di un centimetro e mezzo. Un fatto gravissimo, una violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2013, ieri la prima udienza in tribunale. Nella vicenda sono coinvolti i minorenni ed un vigilatore notturno ritenuto colpevole di non aver impedito che il ragazzino venisse immobilizzato e violentato. La vittima, ora maggiorenne, ha deciso di non costituirsi parte civile. Non chiederà alcun risarcimento danni agli avvocati della controparte del foro di Padova. I minorenni coinvolti sono stati oggetto di un procedimento penale da parte della Procura dei minori di Venezia, mentre l'unico maggiorenne, il vigilatore notturno, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Belluno. Quest'ultimo, all'epoca dei fatti contestati, studiava all'università e con questa occupazione limitata alla stagione si era pagato gli studi. Ieri la prima udienza, la successiva, è stata messa in calendario per il 5 dicembre. Si inizierà con i testi della pubblica accusa e sarà ricostruita l'intera vicenda di quella terribile notte. Secondo il Pubblico Ministero non si tratta di un atto di bullismo, ma di un episodio di violenza sessuale di gruppo che è punito con una condanna da 6 a 12 anni.